Salve amici del Centro Meto Italiano, prossimo weekend che vedrà un cedimento dell'anticiclone. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato, primo agosto. Tempo stabile al mattino da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, specie lungo le coste. Al pomeriggio gli stabilità in aumento con acquazzoni o temporali sparsi i possibili su arco alpino e dorsale appenninica, più asciutto altrove con maggiori schiarite lungo le coste. In serata è notata residui fenomeni su alpi e prealpi centro-orientali, più asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Temperature stazionari o in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.